L'annata 2020 è stata per noi un'annata molto particolare, molto emozionante. Abbiamo raggiunto infatti il traguardo delle 70 vendemmie di Amarone. 70 vendemmie sono per noi un motivo di grandissimo orgoglio. Sono 70 anni che interpretiamo la Valpolicella, 70 anni di esperienza di appassimento e di vinificazione di uve di Amarone. Chiaramente una grandissima passione per il nostro lavoro sul quale poggiamo ancora oggi la nostra identità. Dal 1950 ad oggi tanto tempo è trascorso e la cantina, la bolla, chiaramente nel tempo ha saputo rinnovarsi, ha saputo interpretare anche il gusto del consumatore moderno che sta diventando sempre più appassionato e sempre più esigente in fatto di sapori del vino. Da 70 anni la nostra missione è quella di continuare ad essere ambasciatori dello stile e del gusto italiano nel mondo.